allora terzo tempo una partita di caccia 8 molto tirata insomma sono stati bravi tutti in campo perché poi si vince anche con l'eleganza a borti si vince però sono stati bravissimi passaggi corano come dannati dai te come mai non hai giocato? eh c'erano loro ah ti hai fatto il turnover forse sbagliato e sei pensito di nero però sei con la squadra dei Verdi ok ok lo facciamo vedere allora senti come sono stati questi avversari no no sono bravi cioè avete battuto la prima classifica no no ma sono bravi infatti cioè meritano il posto allora oggi è stata dura un commento veloce no bella partita bella partita dai bravo allora va bene insomma è stata una partita insomma il risultato insomma ha espresso un po avete mangiato diversi gol è stato bravo anche il portiere si si sono stati bravi a pensare che è un giocatore che a pensare che è un giocatore che è andato in porta oggi non hai segnato un attimo ragazzi ci si proverà la prossima la prossima volta ti sei dato da fare tanto ti avete provato fino all'ultimo aspettate però ragazzi buonasera buonasera oggi non sei andato molto veloce è stanco si ce la fa più allora ve l'aspettavate questo caiman 2 appunto zero proprio in tutti i reparti ve l'aspettavate una bella squadra ci ha battuto questo è questo è importante è bello questo complimento che vi ha fatto sono stati bravi comunque dai ci avete provato comunque penso che siete sempre primi classifica quindi portierone e fu così che il caiman si è disfatto del vecchio portiere che è qui presente per trovare un portiere nuovo a otto giocherei volentieri c'è imposto beh questa ha giocato bene in difesa però è stato più bravo lui in porta allora mi devo far male alla mano più spesso bene Nunzio bravo il portiere male noi comunque a parte quello però l'aspettavi diciamo questo caiman così forte ma avete reso infatti al cento per cento bravi ragazzi complimenti dai